Ok ragazzi continuiamo con la parte 2 sempre della missione di prima Qua ho fatto io questo casino, mi prendo questa bella macchina Più o meno 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 E io l'ho veduto con la macchina Più o meno Non ti rilassi mai Rivoglio solo il mio partner Io ho seduto al computer, tu sul campo a fare il lavoro Spoglio Voglio aiutarti c'era un secondo hacker c'era un secondo hacker e io so dove cercarlo anche se è vero Demia non puoi farcela da solo io ti servo ma purtroppo per te tu non sappi a me non andare niente è una pista a fa culo grazie della dritta la macchina muove scomparono sempre mi ha insegnato a trovare e a sfruttare le falle nel codice ma io gli ho insegnato a fare lo stesso senza un computer le persone sono più vulnerabili dei loro sistemi eravamo una bella squadra cioè io ero salito con la macchina per me era morto non spreco più tempo pensato a lui ma ora ha scoperto il mio punto debole devo scoprire cosa sa suggerlo ok anche questa missione è fatta ragazzi quindi ci vediamo nella prossima puntata di Watch Dogs ok ho dei punti abilità vi faccio vedere dove li metto allora vediamo un po' mi piacerebbe qua non posso fare niente a parte questo che non so che cazzo serve cioè aggiungo lo slot batteria comunque punti disponibili 1 wow cioè quindi in pratica potrei fare o questa cosa prendi quella roba per far partire fermare i treni oppure questo ti hai dovuto guardare per la zona abbassare i dissuasori guardare i treni Vabbè facciamo questo Vabbè Vabbè